Ciao a tutti! Molti ci stanno scrivendo per avere un po' di informazioni in merito alla nostra rassegna teatrale Opla Teatro 2.0. Vi diamo subito le informazioni necessarie. Innanzitutto la rassegna avverrà ogni martedì e venerdì fino al 3 aprile dalle 16 alle 19. Questo vuol dire che su tutti i nostri canali social, facebook e youtube metteremo il link di uno spettacolo. Questo link sarà attivo solo dalle 16 alle 19 di quel giorno. Questo non vuol dire che lo spettacolo dura tre ore, tranquilli, semplicemente che avete tre ore di tempo per usufruire dello spettacolo. Gli spettacoli saranno alcuni rivolti per i bambini ma anche ne avremo due rivolti agli adulti. Per cui dovete fare una semplice cosa. Oggi dalle 16 alle 19 quando volete andate sulle nostre pagine facebook o youtube e cliccate sul link che troverete dello spettacolo. Vi dico in anticipo una cosa, lo spettacolo di oggi sarà sui tre porcellini, però non ditelo a nessuno va bene? Ci vediamo oggi e state a casa! Grazie! Grazie!